Ciao, sono Marta Moschetta, sono una ginecologa italiana che si è trasferita a Madrid circa quattro anni fa. Lavoro in Procatec da un paio d'anni e il mio lavoro consiste nel fare consulenze di fertilità, consulenze ginecologiche e diagnosi prenatale non invasiva e istroscopie. Quando i pazienti italiani vengono a Madrid per una prima visita, durante il colloquio spiego come funziona il trattamento, la selezione della donatrice e rispondo a tutte le domande che li possono sorgere. Durante la stessa visita, con la collaborazione del Dipartimento Internazionale di Attenzione al Paziente, stabiliamo in base alle esigenze della coppia il periodo in cui effettuare il trattamento. Dal punto di vista medico, alle pazienti italiane eseguo una ecografia dove cerco di valutare se hanno cisti o hanno miomi o qualche problema che potrebbe ritardare il trattamento e in alcuni casi faccio anche la prova del catetere. Prova del catetere che consiste nell'introdurre un catetere, lo stesso che utilizziamo poi durante la transfer, per valutare se la paziente ha bisogno di una particolare cannula o ha bisogno di effettuare una isteroscopia prima del trattamento. Per i pazienti italiani che hanno difficoltà a viaggiare e venire a Procateco organizziamo dei colloqui telefonici o per Skype previa valutazione degli esami richiesti. Giornalmente controllo tutte le cartelle cliniche e parlo con i pazienti e con i rispettivi medici per eventuali dubbi o chiaramenti. Quando non sono presente per motivi professionali o per vacanze, le mie colleghe spagnole mi sostituiscono con l'aiuto delle coordinatrici del Dipartimento internazionale e attenzione al paziente. Quest'ultime sono in contatto giornalmente, incluso nel weekend, con le pazienti rispondendo a mail e a telefonate. Mi piace molto lavorare a Procateco perché ho un contatto personalizzato con le pazienti, dal momento in cui si rivolgono alla clinica fino alla fine del trattamento e durante la gravidanza. Il cammino della fertilità può essere lungo e faticoso, però riempie di soddisfazione soprattutto quando otteniamo i risultati sperati. Io sono felice di poter aiutare le pazienti a realizzare il sogno di essere madre.